quello di giuseppe tommasi fu un singolare destino di scrittore scrisse un libro uno solo per di più uscito dopo la sua morte il libro venne rifiutato in vita da tantissime case editrici il rifiuto più clamoroso fu quello di elio vittorini per mondadori e per inaudi alla fine lo pubblicò feltrinelli e divenne un successo clamoroso vinse il premio strega e si calcola che abbia venduto circa un milione di copie divenne peraltro molto famoso per il film che ne trasse l'ultimo visconti con barth lancaster e claudia cardinale il gatto pardo era lo stemma di famiglia della famiglia salina protagonista del libro ma gatto bardesco da quel momento divenne un certo modo di intendere la vita un certo trasformismo siciliano per cui perché tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi